buongiorno benvenuti in questo nuovo video tutorial per presentarvi il mitico aggiornamento che è cessato su spotware cheat trader e in esclusiva attualmente disponibile solo per topfx allora se avete notato in questi giorni qua diciamo in questo periodo già si intravedeva che c'è l'area di aggiornamento quindi le foto profilo diciamo un po più un aggiornamento a livello più social ed ecco che oggi spotware ci presenta il tastino che vedete qui quindi sono io sono sulla cheat trader web in questo momento qui potete farlo anche direttamente sul vostro smartphone ok se vedete qui nel menu a sinistra hanno messo il diciamo un nuovo gruppo nel menu dove c'è scritto invite quindi invita se andiamo su questa sezione qui vedremo adesso che praticamente il nostro link della strategia o comunque del profilo nostro andremo a vedere tutti i click tutti gli investitori che appunto vanno a cliccare su questo link dove vanno appunto magari a vedere la vostra strategia quindi abbiamo un ritorno anche in quel senso lì che finalmente possiamo vedere un po' diciamo l'andamento ok il via vai ecco se appunto notiamo qua hanno messo impostazioni qui ovviamente potete andare a mettere il vostro link referral attuale di topfx e in automatico questa spunta appunto come vedete non può essere tolta ok quindi state accettando pulsante apri conto reale poi queste spunte verranno messe direttamente in in automatico e poi dovete ricordare di flegare mostra il tuo profilo nella sezione partner ok non è finita qui schiacciamo su gestisci profilo come potete vedere si aprirà questa schermata adesso sono qui al pc ma succederà anche sul telefono la stessa identica cosa e qui diciamo arriva il bello perché appunto si può andare a mettere la foto profilo si può andare a mettere la copertina si possono vedere le statistiche appunto dei volumi scambiati lasciate perdere le mie e qui appunto i pip vinti e la cosa diciamo molto carina che secondo me ci andava è praticamente una descrizione del trader ok quindi cosa fai di che cosa ti occupi quando hai iniziato che esperienza hai quindi potete andare a inserire anche una vostra descrizione ok quindi propria dove appunto vi fate conoscere diciamo agli investitori o alla vostra community diciamo comunque una cosa che secondo me serviva poi se clicchiamo qui sul show contact information praticamente potete andare a mettere il numero di telefono il vostro instagram whatsapp twitter telegram youtube facebook poi ricordate di fare salva ovviamente se andate sulla id info vi fa vedere praticamente come per in maniera corretta come dovrete inserire il dato ok ecco qui che appunto vi dice mettete il link poi slash username slash whatsapp se sai identica cosa twitter uguale telegram uguale ok youtube uguale ok ovviamente anche facebook ricordate di fare sempre salva poi nell'altra sezione vi chiede appunto se i vostri contatti social volete che siano visibili ok quindi ricordatevi di flegare questa parte qua le vostre statistiche quindi questo queste queste qui se volete che appunto sono visibili ok la sezione about è ovviamente il broker raccomandato ok infine nell'ultima sezione se appunto il vostro profilo lo volete rendere visibile o non visibile quindi se non avete flegato questa parte qui delle vostre strategie ovviamente se siete fornitori e avete una strategia se non la flegate quando vanno a cliccare sul vostro profilo praticamente la strategia non sarà visibile ok in ultimo andiamo a vedere che poi una volta che avete impostato tutto potete andare a vedere anche un'anteprima ok di come verrà visto dagli investitori questa parte qua quindi se potete vedere il telegram youtube instagram quindi pulsanti social in prima linea ok che oggi sono tutto ok anche nel nostro settore come potete vedere fa vedere anche i vostri asset preferiti statistiche il broker appunto raccomandato quindi se cliccano qui vanno direttamente sul link che diciamo ovviamente adesso me si apre così però andrà poi sul sul broker che appunto state raccomandando e poi in ultimo se avete strategie attive ok praticamente vedranno appunto poi tutte le vostre strategie 4 5 3 adesso poi dipende da ognuno quanto ne vuole ecco questo è un po' l'aggiornamento finito di spotware ctrader in esclusiva solo su topfx e che dire un aggiornamento che secondo me ci voleva ok spotware sappiamo tutti che è sempre in evoluzione direi che questo aggiornamento penso almeno il mio pensiero servirà molti investitori ma anche a tanti fornitori che appunto si vogliono far conoscere quindi è un bel un bel gradino un level up ecco che che ci andava quindi questo è il video se avete domande non c'è nessun tipo di problema un abbraccio ciao ciao